Ho ancora le immagini qua davanti ragazzi, io credo che sia una cosa eccezionale, a parte le qualificazioni per Tokyo che ha appena fatto la nostra nazionale, ma c'è una cosa che mi ha colpito veramente, ma proprio alla grande, ed è lo sguardo. Lo sguardo di questi ragazzi nel mentre stavano giocando la partita, quando facevano punto, la loro rabbia sportiva, la loro grinta agonistica, il loro fare punto, caricarsi e subito riconcentrarsi per il punto successivo e veramente quello sguardo, quella grande determinazione negli occhi, quegli occhi della tigre che veramente una persona ha quando va verso il proprio obiettivo. E caspita ragazzi, avere un obiettivo nella vita è importantissimo, poi possono essere tanti per carità, ma avere un obiettivo e decidere di farlo, costi quel che costi, o lo faccio o muoio, questo un po', quello che dicono in inglese, non mi ricordo bene l'espressione, però fa veramente capire come l'emozione ti può portare a costruire qualcosa di eccezionale. Questi ragazzi sono stati veramente eccezionali questa sera, mi hanno fatto emozionare, mi hanno dato un brido incredibile e mi hanno ricordato quanto è importante avere gli occhi della tigre, quanto è importante essere focalizzati sull'obiettivo. E questo avviene perché giorno dopo giorno hai costruito il tuo successo, giorno dopo giorno ti sei impegnato, giorno dopo giorno ti sei allenato, anche quando non volevi comunque l'hai fatto, anche quando costava fatica comunque l'hai fatto. Ed è questo che fa totalmente la differenza. Quindi grazie, grazie mille agli azzurri, grazie mille alla pallavolo, alla volle italiana, grazie mille a tutte quelle persone che ogni giorno si impegnano per se stesse ad arrivare verso i propri obiettivi, perché siete un grande esempio e mi date una grande forza.